nuovo acquisto su amazon ho comprato degli accessori per il mio nuovo iphone non vedo l'ora di provarli no vabbè ma quanto sono cute iniziamo dalla versione blu che è quella che mi piace di più ed è proprio un ombrello per l'iphone all'interno c'era anche questo ipopotamo con ventosa proviamo ad attaccarla sull'iphone in teoria va attaccato qui l'ombrello va inserito all'interno ed ecco che il nostro iphone è protetto dall'ombrello può ancora fare qualche prova ma per ora promossissimo